ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato a giocare con il ritmo in particolare questo è un video per genitori e figli si basa su alcuni semplici giochi ritmici che poi ci porteranno a un'improvvisazione e a poter giocare insieme la cosa è semplice con la mano batto sulla gamba e chiamo battere questo gesto con l'altra mano semplicemente mi metto sopra alla mano che sta battendo e ottengo un raddoppio del ritmo quindi questo è il battere e questo è il levare tolgo metto tolgo metto per aiutare usiamo anche delle parole onomatopeiche in questo caso durante il video ho utilizzato un metronomo un metronomo è un accessorio per musicisti che serve per tenere il tempo c'è una asticella con un cursore mobile io sposto il cursore in corrispondenza di numeri che sono scritti e questo mi dà la velocità per questo video ho usato la velocità di 76 vuol dire 76 battiti al minuto il metronomo non è indispensabile per poter giocare con il ritmo da una mano per poter tenere proprio il tempo e se non avete un metronomo meccanico come questo non preoccupatevi perché ci sono numerose app per gli smartphone che permettono di fare il metronomo se non avete voglia di usare il metronomo non preoccupatevi divertitevi non preoccupatevi anche di sbagliare perché fa parte del gioco e in questo video vedremo appunto come giocare col ritmo con i propri figli buona visione alla prossima BOMBOMBOMBOMBOM Chaka 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 BOM 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 Grazie a tutti Grazie a tutti